Oggi vi mostrerò come Minecraft con la realtà aumentata ed è una cosa fighissima Qui davanti a me abbiamo dei piccoli maialini e se andassimo qua con una piccola spadata Questi maialini non disponono nel nulla ma il loro cadavere rimane a terra e voi potete giocare a calcio con il loro cadavere È un qualcosa di un po' macabro lo ammetto però effettivamente se ci pensate nella realtà è così C'è nel senso non è che si scompare Mi è caduto il maiale giù dalla montagna Come è anche giusto che se vado qui e butto giù un albero questo si frantumi in pezzettini di questo tipo In piccoli blocchettini Ah e questo teoricamente funziona anche con una TNT Cioè se mettessi tipo una TNT in questo modo teoricamente tutti i pezzettini dovrebbero sgretolarsi In questo modo ed è qualcosa di molto bello wow Ora che ci penso però voglio provare una cosa Se facessi qualcosa di questo tipo vediamo un pochettino Una pioggia di briciole sparse per il mio mondo Che lagga